Domani è il giorno della Lago Maggiore Marathon. Per garantire la sicurezza dei più di 1500 atleti coinvolti sono state predisposte alcune variazioni alla viabilità stradale. Abbiamo studiato in quanto a viabilità la soluzione meno impattante sul traffico, quindi abbiamo deciso di lasciare in accordo con la prefettura e la questura del VCO aperta l'entrata e uscita sulla città di Verbagna tramite la variante di Bieno. Si può ancora uscire da Verbagna utilizzando la SS34, quindi in uscita e aperta. Abbiamo istituito una possibilità tramite il ponte sul fiume Toce per entrare e uscire a Ferriolo ed invece la parte legata a Baveno e Stresa ha tutto l'alto vergante che funziona un po' da sfogo in attesa della nuova entrata per l'autostrada che diventerà molto utile per gli eventi sportivi. I dettagli sono su www.lagomaggioremarathon.it, trovate anche una pratica scheda dedicata agli spettatori con orari di transito di tutte le gare, le location più importanti e i punti iconici del percorso, ma soprattutto anche un documento che si chiama Info Viabilità sulla sezione Ospitalità che indica proprio la chiusura di tutti i tratti autostradali interessati dal percorso.